Di Maio tratta anche sui ministri, i miei non sono intoccabili Luigi Di Maio fa trapelare una frase alle agenzie durante lincontro con i senatori, dei ministri si parla col presidente della Repubblica, dei temi invece con i partiti politici. Sfumature che tradiscono grandi passi in avanti. Ma il leader grillino aveva prima di ora aperto una crepa alla granitica certezza che la squadra dei ministri sarebbe stata quella presentata con tanto di grande scenografia mediatica prima del voto. Segno che Di Maio vuole trattare. Anzi, sta trattando. Per ora i leader si studiano, si tengono a distanza di telefono. Tocca agli ambasciatori incontrarsi e parlarsi. . E i 5 Stelle lo stanno facendo soprattutto con la Lega. . A sentire i grillini che lavorano a stretto contatto con Di Maio, la speranza di avere un governo in qualche modo sostenuto dal PD, sotto la regia del Colle, si sta via via affievolendo. . Certo, non sono sfuggiti i nuovi importanti segnali di apertura del PD, vediamo però se fanno davvero il referendum tra gli iscritti e il pensiero di Di Maio. . Ma non c'è solo l'idea di una consultazione interna tra i demo che potrebbe comunque finire male. . . Un renziano eretico come Matteo Ricchetti propone di ragionare su un governo di scopo di pochi punti. . Qualcosa di non di simile a quella formula immaginata dai vertici dell'M5S prima del voto, quando non sapevano che il peso del movimento sarebbe stato maggiore. . I grillini lasceranno che Mattarella tenti un'ultima carta con il PD durante le consultazioni dopo Pasqua. . Se andrà male, l'asse costruito nel frattempo con i leghisti sulle presidenze di Camera e Senato, diventerà la struttura portante di un'alleanza di governo ancora tutta da disegnare. . . I 5 Stelle hanno cambiato schema, temono di tornare al voto con una legge elettorale sfavorevole, magari con un premio di maggioranza incostituzionale che favorisca Matteo Salvini e non loro, dopo mesi a tenere in vita un Parlamento rissoso. . . Nessuno, poi, nell'M5S ha la sicurezza che i gruppi, consumati da settimane o mesi di crisi, terranno compatti, o che invece messi di fronte al timore di perdere la poltrona per colpa di nuove elezioni, non imploderanno. . Di Maio è confortato anche dalla convinzione che sarebbero pochi a opporsi a un esecutivo grillo leghista. . Anche chi, come Matteo Mantero, è stato incasellato nell'ala di sinistra dell'M5S, è ormai pronto a digerire persino la Lega purché l'alleanza sia blindata su punti specifici. . . Mantero e Ligure, sono diventato pragmatico ortodosso scherza, è vero che in Liguria i leghisti stanno spolpando la sanità, ma un conto sono i territori, un altro il governo, condizionato da un programma che affronti le priorità economiche del paese. . . . Nello sguardo dei senatori dell'M5S c'è la curiosità spaisata di chi debutta in Parlamento senza sapere se sarà maggioranza o opposizione. . Luigi Di Maio non può che offrire un incoraggiamento, per il governo sono sereno e fiducioso. . Sarà difficile metterci all'angolo. . . Ma la strada deve essere sgombra di inciampi sin dal principio. . . Di sicuro, non aiuterebbe partire con un pasticcio sugli uffici di presidenza. . . Maio ha offerto una governance condivisa, con due punti fermi, il presidente della Camera va all'M5S, il Senato alla Lega o male che vada a qualcun altro del centrodestra. . 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